Oggi c'è attraversamenti multipli che ieri iniziava la stazione metro di Garibaldi e oggi è arrivata all'università, stazione che abbiamo scelto perché sono tutte bellissime però, vi racconta pure queste piastralle qua dietro, è veramente un posto di interconnessione tra il dentro e il fuori, la città, la Napoli underground e oggi attraversamenti multipli, un programma, c'è stata una performance di Giovanna Velardi con la danzatrice e coreografa di Palermo che ha presentato un estratto di Denetra, di uno spettacolo rivisitato appositamente per questa occasione per attraversamenti multipli in un site specifico immaginato per questo luogo, per questo spazio poi c'è stata un'altra performance di danza di un compagno di Roma, Maddai anche qui una performance site specifico, quindi un lavoro appositamente immaginato per questo luogo, per questo luogo di viaggio e di transito e poi c'è Tele Radio Metropoli che è una radio performativa live in diretta che è un progetto artistico di margine operative che ospita al suo interno la compagnia Bartolini Baronio, una compagnia teatrale che presenta dei shot reading, cioè delle piccole pillole di poesia diciamo lanciate in questo spazio che possono essere anche catturate da una persona di passaggio perché attraversamenti multipli a Napoli lavora sul teatro, la performance presenta piccole performance di teatro, danza e poesia poesia anche però declinata come il rap, infatti ieri abbiamo detto anche cantare degli assalti frontali, quindi poesia anche immaginata poesia urbana e quindi la poesia in tutte le sue variegate forme